Gruppo Sella al Digital Summit 2017, che tipo di investimento fate come banca nell'innovazione digitale in Italia? So che voi avete un Sella Lab che investe in start-up. Noi siamo consapevoli che la banca è l'attore principale dello sviluppo perché è in mezzo ad ogni transazione economica. Quindi reputando che lo sviluppo economico sia proporzionale all'innovazione in questo periodo di discontinuità, noi facciamo tutto il possibile perché i nostri clienti abbiano successo in questa trasformazione. E in parte perché nascano le nuove imprese la capacità di innovare. Quindi in Sella Lab noi acceleriamo progetti di innovazione di imprese esistenti, ma soprattutto aiutiamo le start-up, o meglio, chi ha le idee, ad avviarsi verso questo percorso. Ricordandosi che in realtà noi siamo una banca e quindi lo facciamo con umiltà, cercando di fare in modo che loro intraprendano un percorso che osserviamo fare a moltissime imprese. In Sella Lab facciamo un'altra cosa, quindi adottiamo le regole dell'innovazione, quindi aiutiamo a mettere sui business plan, a predisporli, a creare la società e a trovare i capitali di rischio che non mettono necessariamente le banche, ma mettono i circuiti specializzati, i fondi venture, i fondi seed. Noi stessi, con un'altra linea che abbiamo chiamato Sella Venture, investiamo in quei fondi in modo da aumentare la capacità che il circuito dei capitali riesce a mettere in campo per aiutare l'ecosistema dell'innovazione. Parlando di innovazione, nei prossimi mesi, anni, si attueranno le direttive europee PSD2, quindi le transazioni finanziarie saranno sempre più semplici anche su altre piattaforme, quindi penso a Facebook, Social Network, possono diventare dei vostri competitor per ad esempio i pagamenti in digitale? Allora, la PSD2 e la GDPR, che è la privacy europea, di fatto obbligano alla portabilità del dato, obbligano a fare accedere ai dati laddove il cliente lo autorizzi e obbligano a predisporre delle interfacce tecnologiche, le cosiddette API, per consentire di accedere in maniera tecnologica alla banca. Quindi è innanzitutto una grandissima opportunità di seguire l'innovazione creando quello che io chiamo un Open Banking Platform, quindi una capacità di collegarsi e quel modo accelera il cosiddetto FinTech, quindi la capacità della banca di adeguarsi all'innovazione. Certamente non solo la banca, quindi l'opportunità riguarda tutti, tutti coloro che abbiano la capacità, l'imprenditorialità di fare bene una delle cose che anche in banca oggi può essere migliorata, automatizzata e innovata. Quindi noi ci aspettiamo che ci sia per le banche una bella sfida, ma una grandissima opportunità, ma anche per i soggetti che ovviamente possono essere visti come competitor, ma la mia personale visione in realtà è che non lo sono, e che le start-up FinTech o anche chi riesce a collegarsi, anche i social network, non facciano altro che aumentare il nostro mercato, migliorarlo e creare delle nuove opportunità per i clienti, quindi anche per noi. In due parole, qual è la sfida digitale dei prossimi anni per il vostro gruppo e per il vostro settore? Direi creare la Open Banking Platform, quindi un sistema in cui la banca sia più economica, più rapida, più efficiente e dietro le quinte abiliti il cambiamento tecnologico.